Cappelli cotonati, puttine colorate, canzoni che parlano di sesso, droga e rock'n'roll. Tutto questo è l'air metal. Negli Stati Uniti nello scorso secolo tantissime le band che hanno segnato un'epoca e scritto canzoni che sono rimaste nella storia della musica rock. Per saperne di più l'appuntamento è domenica 17 marzo ore 21 su NTV web con Rock of Angels.